Eccoci, eccoci, apriamo queste immagini che abbiamo scelto da internet, che è una pittura, e forse era meglio che per questa sperimentazione si partiva da una foto, in modo che l'effetto era più evidente, la trasformazione, va bene, comunque ormai ho fatto questo lavoro, la prossima volta partirò da una foto, quindi userò il Photoshop, il programma di grafica Photoshop per usare la computer grafica per trasformare ancora di più in senso ancora più astratto, ancora più informale, per divertirci con la fantasia, vedere quello che esce fuori, quindi lavorerò con i tre colori primati della sintesi sottrattiva quindi non l'RGB ma il CMYC, già magenta, giallo e nero. Segue adesso uno spezzone di un mio vecchio video in cui cerco di parlare un po' di questo principio dei colori primari e come funzionano. tre colori primari, abbiamo quindi il magenta, semplicemente i tre colori primari, il magenta, il giallo, il cian e il nero. Il nero non è un colore, serve solo per rafforzare le ombre, quindi con queste tre lastre colorate trasparenti, come potete vedere, cian, magenta e giallo, mettendole tutte insieme abbiamo l'immagine completa. Potevano esserci anche moltissimi più colori, veramente, poteva esserci Arlecchino qui con 200.000 colori, noi avremmo visto che anche milioni di colori possono essere ottenuti soltanto con i tre colori primari, questi tre colori primari. Quindi apriamo queste immagini appunto con il Photoshop e una volta con la funzione sottrattiva, quindi il CMYC e una volta con la funzione additiva, quindi gli RGB, lavorando con questa palette, con la paletta dei canali, oscurando una volta un colore, una volta un altro, possiamo selezionare un colore singolo alla volta o anche una coppia di colori. Per esempio qui abbiamo il rosso e il giallo che lavorano insieme. Se butto il rosso viene fuori solo il giallo. Ecco, questa è la lastra del giallo, io comincerò in effetti a dipingere il giallo con gli acquirelli sul cartoncino. Dopo che avrò dipinto il giallo tornerò alla lastra del rosso e dipingerò il rosso, ci dipingerò il rosso sopra, come ho potuto vedere nell'immagine precedente. Poi posso attraverso, ecco la maschera veloce, ottenere, dopo che ho buttato gli altri colori, ottenere il Chan e quindi lavorare con il Chan, con i tre colori. Per chi non ha il Photoshop, come vedete, potete andare su internet Fotopea e potete avere, diciamo, questo programma che è uguale, identico al Photoshop, però è gratuito. Ha tutte le funzioni del Photoshop, precisamente tutto quello che voi vedete fare a me o ad altri con il Photoshop. Se voi non l'avete, con Fotopea.com potete avere un Photoshop, un open source, un tipo di Photoshop gratuito che effettivamente fa tutto quello che fa il Photoshop. Quindi, detto questo, ci mettiamo al lavoro. Per cui comincio con il giallo e faccio la pittura del giallo, cioè copiando dalla lastra faccio prima il giallo, poi copiando il rosso sopra il giallo farò anch'io il rosso sopra il giallo e poi infine dipingerò il Chan. Ed infine abbiamo il suggerimento del Photoshop per quanto riguarda il nero, il colore nero. Quindi noi andremo a dipingere il colore nero, trasparente, acquerello, sopra i tre colori che abbiamo già dipinto. E abbiamo questo effetto finale qua. Parliamo adesso un attimo, diciamo, di questo risultato, di questo effetto. Noi abbiamo trasformato una pittura, un'immagine che era già una pittura, e l'abbiamo fatta diventare un'altra pittura, una nuova creazione, una nuova elaborazione. E' avvenuta una cosa diversa. Quindi non stiamo parlando di copia d'autori. Non volevamo fare una cosa proprio uguale, identica, una copia proprio il più preciso, il più precisamente uguale, precisa all'originale. Volevamo fare una cosa diversa. Quindi se noi partiamo da un'immagine, da una pittura, viene un altro tipo di pittura. Ma se noi, e questo è il concetto, il messaggio, il concetto, il nocciolo che volevo trasmettere, se noi questa tecnica la usiamo partendo da una fotografia, cioè da una fotografia reale, da una fotografia di un paesaggio, di quello che volete voi, noi trasformeremo questa fotografia in una vera pittura, ma una pittura, diciamo, che sarà stato, non dico facile, però saremo, diciamo, aiutati, tra virgolette, dal Photoshop per avere un buon risultato perché andremo a dipingere colore per colore. Prima il giallo, poi il magenta, poi il cian e infine il nero. E quindi il risultato è veramente tutto da vedere, interessante, è un nuovo mondo, ecco. Quindi invito tutti a provare questa tecnica per sperimentare, vedere che tipo di nuovo stile, di nuova forma, di nuova bellezza. Sicuramente molti che sono più brevi di me faranno delle cose sicuramente belle. Grazie.